Solo la dugout, fino a 10.000 euro di supervalutazione del tuo usato, promozione riservata su numero limitato di vetture presenti in concessionaria e fino a esaurimento scorte, fino a 5.000 euro su classe A e classe B, fino a 10.000 euro su classe C Berlina. Si chiama Olivio Giannella e in queste ore è l'unico che può dirsi certo di una candidatura al Parlamento. Il Parlamento sfiderà nel corpo a corpo i candidati degli altri partiti e schieramenti, guidando la coalizione Prima TV Telenostra nell'uninominale. Nadia Volino e Pino Boschetti saranno invece i capilista bloccati. Naturalmente i nomi sono di pura fantasia ed i simboli non li troverete sulla prossima scheda elettorale. Serviranno tuttavia a capire e a ragionare sui meccanismi di voto del prossimo 4 marzo. Quanto contano le coalizioni, quanto i candidati, l'area che tira in Regione Campania e in Irpinia, cercheremo le risposte nel corso di uno speciale dedicato alle elezioni 2018. Docenti universitari, giornalisti di respiro regionale e nazionale ci aiuteranno a comprendere il dietro le quinte delle candidature e dei programmi e le possibili ripercussioni sui territori dal 5 di marzo. D'altronde, passando ai partiti reali, è proprio in queste ore che si stabiliscono le caselle chiave. Nel PD, atteso dal Nazareno, il via libera o meno alla candidatura nel collegio Alta Erpini all'uninominale del presidente del Consiglio regionale, Rosetta D'Amelio. Ma a Roma in queste ore, oltre a collocare i fedelissimi nel proporzionale, si stabilirà pure il numero di caselle da attribuire agli alleati. Lo stesso avviene in Forza Italia e nel centro-destra, mentre non hanno di queste necessità i 5 stelle che correranno in solitaria, così come liberi e uguali o potere al popolo, chiamati comunque a stilare gli elenchi. Un'anticipazione della radiografia dei collegi campani, realizzata dal Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Salerno e che sarà al centro dello speciale, è già possibile. Mai prima d'oggi il Rosatellum è stato testato nel voto, per cui anche i sondaggi, in base ai quali si scelgono i candidati vanno presi con le pinze. I candidati dell'uninominale, invece, su quelli non c'è dubbio, saranno loro a determinare le sorti delle forze politiche sul piano locale e di riflesso su quello nazionale. I più votati saranno in grado, infatti, di trascinare l'intera coalizione o la singola forza. Olivio Giannella in campagna va per la maggiore.